Bussner Citycar C602, in pratica l'alternativa lunga comunque 6 metri su Fiat Ducato al C600 che è il modello più apprezzato tra i furgonati Bussner in Italia. Letto matrimoniale posteriore quindi longitudinale anziché trasversale al C600. Se notate e guardate bene, in ogni angolo, in ogni spazio ci sono mille vani, mille ripostigli. Come si dice scherzosamente, in questo furgonato che comunque è costruito bene, di gran qualità e ben accessoriato, è un mezzo un po' da contrabbandieri, come i furgonati devono essere, ovvero devono avere la possibilità di sfruttare ogni minimo spazio per poter ospitare qualunque cosa, tutti i tipi di oggetti. Guardate che bello quell'armadio e guardate anche il bagno, è un vero autentico capolavoro. Per non parlare poi dell'armadietto che quando si dice che è capace, ma è capace perché sono stati capaci, scusate il gioco di parole, di progettarlo con sapienza. Questo furgonato finalmente sarà disponibile in maniera idonea sul mercato italiano. Grazie a tutti.